Noi ora ci spostiamo a Spoleto dove è ormai tutto pronto per l'inizio del Festival dei Due Mondi. Si comincia stasera con un ricco programma di eventi che si snoderà fino al 16 luglio, ma per tutte le anticipazioni ci colleghiamo in diretta con Spoleto dove c'è per noi Cecilia Porro. A te. È un po' di pioggia qui a Spoleto sulla prima giornata del Festival, ma la città è pronta, tutto è pronto, gli alberghi sono pieni per questo fine settimana. Si comincia stasera con l'opera come sempre al Teatro Nuovo Menotti andrà in scena al Don Giovanni di Mozart, la direzione James Connon, la regia è firmata da Giorgio Ferrara che è qui con noi. Giorgio Ferrara ha la guida dell'intero Festival da dieci anni e confermato anche per i prossimi tre. Qual'impronta sente di aver dato e vuole dare a questo Festival? L'impronta di questi dieci anni, cioè grande vetrina internazionale, grandi personaggi, il mantenimento delle quattro discipline che sono l'opera lirica, la grande musica, la danza, il teatro, una linea artistica che è stata premiata dal pubblico e dall'interesse che ha suscitato il Festival, in questi ultimi anni, che si è riposizionato come la manifestazione più importante che c'è in Italia e forse anche in Europa. È il mondo in scena, quindi quest'anno avremo grandissimi arrivi dalla Cina, dalla Russia, dal Brasile. Per quanto riguarda questo weekend, come lei ha detto, i teatri sono esauriti, ma ciò non toglie che si può sempre arrivare e trovare un biglietto all'ultimo momento. Un grande weekend, dopo il Don Giovanni c'è la sezione teatro con Adriana Asti, Memoria di Adriana con la regia di André Ruth Shammat, Alessandro Preziosi in un meraviglioso Van Gogh di Massini e Roberto Saviano, che porta uno spettacolo tratto dal suo ultimo libro, L'apparanza dei bambini. E poi, per onorare le vittime del terremoto e dare speranza ai vivi, abbiamo commissionato un grande requiem civile a Silvia Colasanti, una delle più importanti compositrici moderne, le cui note risuoneranno domenica in Piazza Duomo. Benissimo, una rapida carrellata di questo programma. Allora, grazie a Giorgio Ferrara di essere stato con noi, lo lasciava ai suoi tantissimi impegni della giornata. Grazie a voi. Ecco, abbiamo detto Festival edizione numero 60, vedete questo è il manifesto firmato da Agnieszka Porra per questa edizione. Come 60 sono gli anni che compie AMREF e ci raggiunge qui Fabio Bellumore, il portavoce di AMREF, perché AMREF è partner solidale di questo festival. Cosa lega il festival, cioè AMREF al festival? A parte i 60 anni, noi saremo partner anche dello spettacolo di Roberto Saviano, tratto appunto dall'apparanza dei bambini. E cosa ci lega a Roberto Saviano e a questo suo lavoro? Il racconto dei bambini di strada, come lui ha raccontato Napoli, noi abbiamo lavorato dal 2001 a Nairobi, quindi in un altro paese, in Africa, sempre con il teatro, per portare fuori da quell'ambito i bambini di strada. AMREF lo fa ormai appunto da 60 anni, lavora sempre sulla salute, ma in questo caso ha utilizzato il teatro, che ha portato in Italia e non soltanto anche il Pinocchio Nero, un grandissimo spettacolo, dove i ragazzi di strada sono arrivati ad interpretare questo spettacolo proprio in Italia e in altre parti d'Europa. Benissimo, allora in questi giorni già hanno cominciato a fare la loro apparizione, come avrete visto nelle immagini, alcuni totem con i volti di personaggi noti, molti di questi saranno proprio in carne rossa fisicamente qui a Spoleto durante il festival. Quindi 17 giorni a partire da oggi di grande spettacolo, per ora da Spoleto è tutto, linea lo studio.